Abbiamo qui un testimone di quell'epoca, Fabrizio Zampa, grazie di essere qui con noi. Io mi sono portato qualche ritaglio di Zampa, che è storico, cronista, giornalista, sono 96 anni però mi riporta bene, ma in realtà come poi accadrà anche agli altri ospiti, poi Fabrizio ha fatto anche cose diverse, ha fatto anche la televisione con Arbore, un meraviglioso documentario su De Andrè e poi è stato anche lui, non un bit, però un batterista dei flippers. Quindi questo non è solo un dato personale, lo dico perché spesso è accaduto che ci sia stata una, non voglio dire una confusione, ma spesso i critici erano anche degli appassionati di musica e la praticavano in prima persona. Questo è un elemento che ha caratterizzato un po' il percorso di molti critici musicali che sono cresciuti in quegli anni. Allora io mi sono portato un paio di ritagli di due pezzi famosi di Fabrizio, uno è del 1971, barricate a Milano, prima abbiamo sentito nella colonna sonora che ci proponeva Saverio, un pezzo delle Zeppelin, barricate a Milano scontri tra agenti e gruppi di giovani che volevano entrare gratis al Vigorelli, doveva essere uno spettacolo di musica pop, scrive questo, è l'incipit del pezzo, invece è stata una guerra, una guerra o meglio una guerriglia che era nell'aria fin dall'inizio della senata che quando è entrata in scena il complesso inglese delle Zeppelin, protagonista dello spettacolo musicale del Cantagiro al velodromo Vigorelli, esplosa in tre ore di violenti scontri fra la polizia, carabinieri e numerosi gruppi di giovani. Non vi leggo naturalmente tutto il pezzo ma vi leggo il finale perché è abbastanza interessante, verso le due del mattino, quando i macchinisti del Cantagiro sono entrati nello stadio per smontare le poche attrezzature rimaste ancora sane, il cantante del complesso Robert Plant è arrivato sul posto, era fradicio, per sfuggire alle acrimogeni si era rifugiato sotto una doccia negli spogliatoi del velodromo. Le sue prime parole di fronte al palcoscenico distrutto sono state the dream is over. Il sogno è finito. Allora, Fabrizio... Se volete ve la racconto io esattamente come è stata. Cioè è cominciato il grande casino di invasioni, cose e robe eccetera e nel retrofalco io e Piero Vigorelli, regista e autore di tante cose, ci chiudemmo nei bagni perché i lacrimogeni cominciavano ad arrivare dentro al backstage del Vigorelli. Fummo assediati dagli agenti, ci lanciarono due lacrimogeni dentro i bagni, noi piangendo e urlando uscimmo da questo inferno, dopodiché andai a scrivere questo pezzo che era morbido, molto morbido per quanto poteva essere duro. Il giorno dopo arrivò una protesta della questura di Milano per quello che io avevo scritto e io lo dissi al mio direttore che era Sandrino Perrone, scomparso molti anni fa il quale Sandrino Perrone alzò il telefono e disse chiamatemi il questore di Milano gli fece un cazziatone di due ore dicendo che il nostro giornalista è stato malmenato perché voleva scrivere quello che succedeva al Vigorelli. E così finì la cosa. Fu una meraviglia per me perché il fatto che il direttore avesse parlato con il questore di Milano dicendogli il cazziatone era una cosa unica nella storia del giornalismo romano, credo, perché nessun direttore si sarebbe mai messo a fare cose di questo genere. Però la storia di quei tempi è completamente diversa da quella di oggi. Oggi non c'è più una stampa, cioè i giornali vendono il 10% rispetto a quello che era 10 anni fa, 5 anni fa. La rete si prende tutto quanto. Quello che c'è di vero sulla rete è molto difficile stabilirlo perché molto spesso sono cazzate e inventate dall'ultimo ragazzino che si mette a giocare con la tastiera. Gli spazi nei giornali sono ridotti, a meno che non sia il grande tour degli U2 o di Vasco o roba del genere, non c'è più spazio per certe cose. Io stesso, tutto quello che ho scritto per anni sul giornale, le segnalazioni di concerti di Roma, le cose, eccetera, eccetera. Lo faccio sul sito del messaggero perché sulla carta non gliene frega più niente a nessuno. C'è da tenere presente anche un altro dettaglio abbastanza importante. I ragazzini, intendo dai 25 anni in sotto, non leggono il giornale di carta, non lo vedono proprio, non gliene può fregare di meno. Lo guardano online, guardano online poche righe sul telefonino, che sono piccole così, io le vedo di meno, loro le vedono meglio perché sono più giovani. Però l'informazione è quella che è, cioè non c'è più un settore dell'informazione dedicato soprattutto alla musica. I dischi se ne vendono il 10% rispetto a una volta. I film si trovano online scaricabili gratuitamente. Cioè è diventato un momento in cui non c'è più, non ci possiamo più attaccare a quei principi a cui ci attaccavamo tanti anni fa. Perché non esiste più quel mondo. Il mondo è cambiato, molti di noi non se ne sono accorti. È il caso di farci caso, è il caso di prendere nota di tutto questo e comportarsi di conseguenza. Quindi la mia idea è che il critico musicale non esiste più. Esiste quello che segnala delle cose carine. Io cerco di farlo sul giornale, cerco di segnalare soprattutto le cose che siano un po' interessanti nel senso, cioè il concerto di Vasco Rossi al Palasport è inutile che lo segnala perché ci va la gente da sola. Però se trovo un, non so, un vocalista della Giamaica poco conosciuto che sta in un localino da qualche parte e fa una cosa interessante, meglio quello che andarsi a vedere il concertone del quale parleranno tutti i giorni dopo. Tutto qui, non credo di avere molte altre cose da dire su questo settore perché è un settore che sta morendo. Sta morendo come muore la carta stampata. Cioè io sono un accalinto lettore di libri. Io ne leggo una media di due la settimana da tutta la vita. Sarà 5.000, 6.000, 7.000, non lo so. Però oggi come oggi. Io vedo che la gente non compra più i libri come una volta. Cioè è passata la voglia di leggere. Sono usciti gli ebook, i libri elettronici. Io mi sono comprato un visore di ebook per provare a leggerne uno. Ho letto due pagine e l'ho buttato perché mi piaceva sotto i dita il sentore della carta. Però io sono malato perché appartengo a un'altra generazione. Dovrei essere già morto da parecchio tempo. Tecnicamente. E quindi è un peccato che la carta non ci sia più. Però cerchiamo online di scrivere meno cazzate di quante se ne scrivono una volta sulla carta. Ecco tutto qui. Questo è il mio proposito per il futuro. Dopo questo rassicurante intervento di Fabrizio Zampa, in realtà io... Non è tanto rassicurante quanto la realtà. La realtà? In realtà però non voglio perdere di vista comunque la tua testimonianza sul passato perché è vero, la realtà di oggi un po' la conosciamo ed è quella che ovviamente ci preoccupa e sono esattamente le cose che tu dicevi. Magari questo lo vedremo di nuovo. Però tornando a quell'epoca per cercare un po' di spiegare come avete costruito questo mestiere. Insomma io volevo raccontare un po' questo. L'altro pezzo che mi sono portato è sempre del 71 ed è Viareggio Fischi senza pietà. Era un festival interessante quello di Viareggio e qui sembra un po' di risentire le parole che ha appena detto Fabrizio perché a un certo punto il festival della musica d'avanguardia e nuove tendenze, questo era il titolo completo del festival, che è stato uno degli appuntamenti importanti di quella stagione. Però in questo caso il cronista è stato molto molto severo perché adesso non vi sto a leggere diciamo nel dettaglio dell'articolo, però insomma stronca praticamente tutti i rappresentanti italiani, tranne mi pare, dice, ecco sì, i Circus 2000, i Trip e la cantante Mia Martini che stava veramente agli esordi. Mentre bravissimi poi grande, grande, diciamo una critica molto positiva per gli ospiti internazionali. Ecco e qui insomma più o meno riproponi quello che dicevi prima a proposito di cercare le novità all'interno di quello che si presenta all'orizzonte. Ecco ma lì la libertà di, tu dicevi il direttore ti ha difeso, è stata una cosa molto importante nell'episodio delle Zeppeline, vabbè no ma era un cinno di cronaca. Certo, no 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 ma invece a me sta a cuore per capire quanto, perché prima ho accennato al fatto che i responsabili dei settori spettacoli dei giornali di quell'epoca erano un po' impreparati perché questo fenomeno non lo conoscevano. E allora come vi rapportavate rispetto a questo? Le informazioni dove le prendevate? Come funzionava il lavoro? Guarda, le informazioni secondo la vecchia, cioè io faccio una frase di inizio tutto quanto, cioè il giornale è un servizio ai lettori, cioè c'è qualcuno che va da qualche parte a vedere qualche cosa per raccontarlo a chi non ci è potuto andare. Questa era una cosa 50 anni fa. Secondo me è ancora valido anche oggi, perché oggi quelli che scrivono i pezzi raffazzonando su Google qualche informazione, qualche intervista, qualche cosa scopiazzando qua e là, fanno un cattivo servizio, perché prima di tutto perché non c'è la possibilità di controllare se quello che c'è scritto su quello che trova Google sia giusto o no, sia vero o no. E il secondo è che bisognava andare di persona a vedere come stavano le cose. Cioè al Festival della Guardia Nuove Tendenze, io mi ricordo che si sfuggeva a Viareggio, in una zona che era stata data dal comune di Viareggio agli organizzatori, che era uno spiazzetto tra quattro palazzini dove stavano facendo dei lavori in corso, hanno levato le asse di legno, le cose, le carriole, le hanno spostate un po' più in là e c'era intorno una rete di metallo. Fuori di questa rete, dentro c'erano i partecipanti al Festival, dal Banco del Museo del Corso, a Mimì, eccetera, eccetera. Fuori c'era la gente che portava i bambini, gli diceva, vedi, se non mangi la carne da grande diventi come quelli che erano i musicisti che stavano dentro questa specie di gabbiotto. Quindi il principio era quello fondamentale, cioè sono capelloni puzzolenti, meglio non avere niente a che fare con loro. Quello era il principio di quei tempi. È passato qualche giorno. Oggi, grazie a Dio, che c'è i capelli corti, lunghi, medi, resati a zero, non gliene frega niente a nessuno. La gente è piena di tatuaggi fino all'imverosimile. Va tutto bene, però la musica bisogna pure sentirla in qualche modo. Cioè non si può scaricare l'MP3 e sentirsela a casa con gli altoparlanti del computer. Bisogna sentire la musica in qualche modo e quello che ha sostituito i dischi, le cose. Eh, sono i concerti. Cioè i concerti del vivo sono l'unico modo che abbiamo per vedere se qualcuno sa cantare, sa suonare, sa fare musica, sa fare rock o quello che sia in un certo modo degno di essere notato. Cioè il nostro mestiere qua si riduce a cercare di scoprire quale cosa sono essere. Come avevo detto prima, le cose più carine da vedere quelle, chi se ne frega, che tanto trovi online o da qualche altra parte o nel documentarietto o nel programmino sempre più ridotto televisivo che si occupa di musica. Tutto qui. Sì, ma le informazioni però a quell'epoca dove le prendevate? Perché il problema è che io adesso ancora non... Le prendevamo girando. Sì, ma i dischi non si trovavano, i negozi erano orari. Non si trovavano, c'era qualcuno che c'era... Io avevo un mio amico che viveva negli Stati Uniti che una volta alla settimana mi mandava una decina di 45 giri, che erano quelli che uno sentiva e che poi non copiava perché non c'era modo per copiarlo. C'erano le musiche a sette quelle piccoline ma ancora... Anzi, ancora non erano arrivate le musiche a sette, si è arrivata dopo. Quindi si sentiva e dicevano e si diceva ho sentito questa cosa bellissima, però dovevi prestare il disco a qualcuno per fargliela sentire perché non... Le informazioni si trovavano... Che ne so... Girando. Cioè informazioni... La radiofonia per esempio ancora era molto limitata. La radio era ed è l'unico modo per sentire musica decente ancora, eh? Cioè la radio resta fondamentale, la televisione no, ma la radio sì. Sì, diciamo che la costruzione dei critici che commentavano i passaggi della grande musica per l'Italia prima accennavo a qualche festival, vi voglio leggere qualche passaggio di un altro pezzo siamo anche qui a un altro anniversario, il passaggio a Roma di Jimi Hendrix al Brancaccio titolo del pezzo Orrore al Brancaccio lo chiamano The Horror Non era mio questo, attenzione perché io no, io scusate, ve lo dico l'è inciso io ho avuto la grande fortuna di andare al Festival dell'Isola di White dove Jimi Hendrix fece un concerto a mezzanotte e venti giorni dopo morì a Londra in contemporanea con James Joplin che ebbe questa avventura altrove e mi ricordo che Jimi Hendrix a White fu una cosa straordinaria io gli fece un sacco di fotografie me le chiese in prestito Gianni Minà che doveva fare un servizio per l'Europeo e roba del genere io gli diedi queste fotografie e lui me le ha perse tutte io non l'abbiamo mai più ritrovate e me le sono perse era l'ultima testimonianza che avevo di aver visto Jimi Hendrix vivo o morto questo pezzo che tu dici è stato fatto da WC? No, è firmato, è soltanto, non è firmato ovviamente perché adesso sentirete quindi ovviamente forse mancava anche un po' un pizzico di coraggio lo chiamano The Horror e hanno ragione la bruttezza di Jimi Hendrix infatti è tale da superare i comuni concetti estetici lo stesso Jimi del resto non si risparmia autocansonature sul tema della propria scarsa leggiadria Hendrix, cantante a suo modo chitarrista o meglio rumorista della chitarra elettrica personaggio indubbiamente pittoresco con quella pelle di mulatto i vestiti sgargianti da portoricano del West Side con quella testa piena di capelli irsuti e dritti che lo fanno assomigliare a Rob Brown il leader dei negri americani si è fatto un nome di là e di qua dell'oceano vende dischi, insomma è popolare è bravo dunque prima di poter rispondere a questa domanda bisognerebbe precisare il campo d'azione del giovane Jimi è un cantante, un solista, un personaggio da scena? non esattamente ma è comunque tutte queste cose insieme e soprattutto un diabolico brutalizzatore della chitarra aiutato dall'impianto di un'amplificazione deliberatamente impostato sul fracasso che tutto confonde, tutto quindi nasconde Hendrix ha tratto frenetiche, assordanti vibrazioni dal suo strumento urlacchiando ogni tanto frasi decisamente incomprensibili e va detto che lo scarso pubblico attenzione a questo elemento su cui torniamo giovanile non si è agitato molto davanti al rumoroso rhythm and blues di Hendrix e degli altri complessi e cantanti che prima del negro avevano riproposto soltanto con maggior vigore quello che già era stato firmato negli anni 50 da Reed Richard, Bilalei e Les Brown lo spettacolo Titan Stop Show ha presentato anche il giovane Colonna che ha gridato generosamente avendo a fianco una ragazza mini sottoveste abbronzatissima e qui si entra anche in questa descrizione in prima fila di platea assorto Benjamin ovvero un emaciato Pierre Clementi lo ricorderete forse oggi si replica firmato v.c.puntato non riesco a capire era una sigla falsa però perché non c'è nessuno con queste iniziali vabbè quindi l'ho letto anche così semplicemente per dare il dato di come c'era anche una forte impreparazione nei confronti di fenomeni musicali importanti la data è il 25 maggio 68 mi chiedo dove fossi io in quel giorno però ero altrove c'ho un alibi no ecco tutto questo vabbè questa è chiaramente una testimonianza un po' esagerata esasperata però effettivamente sembrano quei film sul razzismo in Alabama capito cioè oggi ragionare come nel 1946 è una di quelle cose assurde è la maggioranza silenziosa che si è fatta sentire una volta adesso al di là di quell'aspetto a me interessava semplicemente sottolineare il fatto che c'era una forte impreparazione anche dei professionisti che cominciavano a lavorare in quest'ambito perché raccontare un concerto che tu hai descritto a White insomma del più grande probabilmente fenomeno della musica rock mai esistito in questo modo ovviamente fa una certa sensazione quindi evidentemente una certissima sensazione certo evidentemente ancora diciamo i critici molti non erano preparati questo era un cronista in realtà non c'era chi di base avesse un minimo di conoscenza della musica un minimo di passione per la musica cioè io mi ricordo noi avevamo un nostro critico di musica classica Teodoro Scelli che quando arrivava un concerto di qualcuno molto moderno molto così lui non ci andava e diceva mando il giovane mandava il suo vice che era quello che poteva capire almeno Scelli era onesto perché direi io a 80 anni è meglio che non vada a sentire Stokhausen ci mando il ragazzo che è più aggiornato di me e questo era il caso da affrontare in questi giorni cioè evidentemente ci è andato qualcuno che non c'era nessun altro che si offriva di partecipare a questi concerti e queste cose ci è andato qualcuno veramente sproveduto che non sapeva nemmeno quello che avrebbe sentito però voglio dire sono passati 60 anni voglio dire che dieci anni dopo sarebbe diventato famoso in tutto il mondo Hendrix per il suo modo di affrontare la chitarra e a White la suonava con i denti ed era formidabile cioè era molto meglio di chiunque altro certo ma infatti ovviamente non è per fare il processo per carità è semplicemente una testimonianza per dare l'idea di come appunto evidentemente ancora non c'era uno schieramento di critici adatto a seguire dei fenomeni così importanti i giornalisti che si occupavano di queste cose erano giornalisti che venivano o da una frequentazione della musica carina insomma giusta oppure chi come me io ho cominciato suonando la batteria con un gruppo che si chiamava i Flippers roba di altre epoche cioè circa 4-5 secoli fa noi facemmo una serie vendemmo tipo 5 milioni di dischi stronzate come Muscle Tremble cha 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 noi siamo veniamo da band jazz e quindi abbiamo pensato che l'unica cosa che conoscevamo dei pezzi di jazz potevano essere trasformati in ritmi alla moda cioè in cha 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 allora facevamo non so un disco che aveva un grande successo fu Bianco Natale e cha 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 era Wild Christmas fatto a cha 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 però la gente si divertiva poi facevamo Iva Tussi insieme a Pianello vendemmo un milione di copie con il mio quinto di diritti del gruppo io mi dice comprei un MG rossa con gli interni di Perle Bordeaux meravigliosa pagata in contanti così col primo semestre delle vendite dei dischi cioè erano altre epoche altre cose altri momenti coerentemente alla cicaloneria diciamo di tutti i rocker per cui invece di metterli da parte ti sei comprata la spider questo insomma era semplicemente un po' per dare una testimonianza di quello che era l'approccio nei confronti di grandi fenomeni musicali prima citavo per esempio a proposito sempre di come anche grandi giornalisti siano stati mobilitati ma non esperti per commentare i fenomeni musicali più importanti di quell'epoca ricordo che l'arrivo a Milano dei Beatles fu affidato al commento di Natalia Aspesi che naturalmente era grandissima giornalista ovviamente però non era un'esperta di musica fece l'intervista ai Beatles sul treno che lì portava a Milano questo per dire ancora una volta di come spesso anche i responsabili dei giornali avevano diciamo non avevano ancora delle persone competenti per seguire i grandi fenomeni di questo mi fido esatto sì naturalmente l'Aspesi dava tutte le garanzie un'intervista celebre poi uscita su un libro che racconta la tournée dei Beatles in Italia nel 65 prima citavi visto che è arrivato Carlo Massarini quindi fra poco coinvolgeremo lui per il lavoro fatto intanto alla radio volevo fare qualche cenno ad alcune cose che poi hanno riguardato anche Fabrizio Zampa cioè il fatto che dell'importanza l'ha ricordato prima della radiofonia prima accennavo al boom del beat in Italia con l'esplosione del mondo musicale e anche delle riviste che si occupavano di questo fenomeno però la cosa fondamentale come ha ricordato appunto Fabrizio prima sono stati l'avvento delle trasmissioni musicali in particolare Bandiera Gialla che più volte è stata ricordata Arbore e Boncompagni con quell'idea geniale prima Fabrizio diceva da 25 in giù lì addirittura ha vietato il programma ha vietato ai maggiori di anni 18 questa fu la grande idea di Arbore e Boncompagni il programma ebbe un enorme successo in onda dal 1965 perché coinvolgeva un pubblico che stava aveva bisogno una grandissima esigenza di avere informazione sul mondo della musica che stava decollando e quindi lì l'ha raccontato mille volte l'avrete visto chissà quante volte Arbore che infilava nelle scalette di Bandiera Gialla i pezzi che lui amava perché poi anche Bandiera Gialla c'erano i pezzi italiani i pezzi internazionali soprattutto Rhythm & Blues che era un genere musicale che in Italia arrivava con grande difficoltà io ringrazio molto Fabrizio Zampa un applauso al nostro decano Grazie a tutti.